Caccia in Country Expo, venerdì 25, sabato 26, domenica 27 novembre 2016, Forlì. Caccia in Country Expo è il salone italiano dedicato al mondo della caccia, del tiro, delle armi, con l'esposizione delle migliori aziende e con un ampio spazio shopping, dove trovare le ultime novità su armi, attrezzature e abbigliamento. Prove gratuite con i migliori fucili nel poligono interno ai padiglioni. Caccia in Country 2016 è organizzata in contemporanea con Fishing Expo 2016, venerdì 25, sabato 26, domenica 27 novembre, presso la Fiera di Forlì.